Sì, sì, ma non era una novità per noi che l'Alcione avesse valori importanti, ci potesse mettere in difficoltà. In primo tempo sono partiti molto forti, loro hanno fatto un ottimo palleggio e sbagliavamo qualche uscita di troppo su tutto il centro campo, erano un po' troppo larghi con le due mezzale, poi ci siamo un po' risistemati e da lì penso che poi abbiamo preso la partita a mano e insomma la vittoria è meritata, forse meritavamo anche un gol in più, però credo che le difficoltà iniziali siano dovute anche un po' alle scorie accumulati domenica scorsa, ma in questa settimana è stata comunque mentalmente abbastanza pesante e quindi c'è da fare solo grandi complimenti a questi ragazzi e a questo gruppo perché hanno risposto veramente alla grande. Direi molto bene la coppia centrale dietro, poi contro una squadra comunque forte fisicamente, bene nel secondo tempo anche a livello proprio di fisicità? Sì, forse abbiamo patito un po' l'inizio gara perché ci stiamo allenando sul sintetico e quindi forse proprio per trovare il pieno nel luogo abbiamo avuto un momento di adattamento al terreno che non era un po' pesante, ma sulla tenuta della gara, della fisica non c'è mai stato problema nessuna partita, questo per noi non è una verità perché poi i valori che registriamo domenicalmente sono sempre molto alti quindi su quello sapevamo che potevamo andare sul lungo periodo e in virtù di questo ho detto anche ai ragazzi direi che questa è una partita data per pazienza, che potevamo anche sbloccarla alla fine perché poi abbiamo tutte le qualità per poterlo fare, infatti ripeto, è la vittoria di grandi persone, di grandi ragazzi che ci tengono e è meritata, credo che sia tutta per loro questa vittoria Comunque, una vittoria soprattutto che restituisce morale dopo, come dicevi, una partita che aveva lasciato qualche scuola Sì, perché poi in realtà questo periodo di assenza di vittorie non era dovuto all'assenza di prestazione perché comunque con la Venda avevamo giocato alla Bari e gli episodi sono stati contrari a Fanful la meritavamo di vincere e anche lì gli episodi sono stati contrari in maniera molto pesante, indeterminante con sviste abbastanza grosse e a Rimini per 50 minuti nessuna squadra ha messo in difficoltà a Rimini come noi poi dopo subito il gol siamo usciti dalla partita e dovevamo capire perché infatti questa settimana che è stata pesante abbiamo lavorato su di noi e il ragazzo ha risposto una grande perché comunque ci poteva essere il rischio di essere troppo frenetici e troppo precipitosi per cercare di fare il risultato subito invece abbiamo avuto pazienza, abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire e abbiamo colpito nel momento giusto anche se poi prima del gol abbiamo avuto anche altra occasione come l'abbiamo avuto dopo quindi ripeto per me è una vittoria verità da contro una squadra forte e quindi bravi, bravi ragazzi sono stati veramente eccezionali fino all'ultimo compresi chi è entrato e i giocatori che sono entrati che sono entrati tutti veramente molto bene grazie